Uomini e donne. In studio accade di tutto. Barbara abbandona lo show tra lo stupore generale. Maria De Filippi è sgomenta ed incredula. Barbara De Santi è ormai un volto imprescindibilmente legato ad uomini e donne. Ha fatto il suo ingresso nello studio di Canale 5 qualche anno fa, ed immediatamente si è distinta per il caratterino tutto pepe. Ha fatto breccia nel cuore di molti grazie al suo fascino smisurato e alla tempra, che è notevole. Non le manda a dire e dice tutto quel che pensa con estrema sincerità, fatto che inevitabilmente, crea anche molte dispute. Che piaccia o meno, è incontrovertibile che la dama sia una delle donne più chiacchierate e controverse dello show. Crea infatti, puntata dopo puntata, nuove dinamiche ed è sempre, dunque, al centro della scena. Basta dare un'occhiata alle pagine social sorte a sostegno della trasmissione per capire quanto Barbara catalizzi l'attenzione del pubblico, proprio come ha fatto nel corso della passata puntata. Il suo atteggiamento non è passato in sordina, anche perché in molti hanno letto sul volto della conduttrice un'espressione di incredulità per quanto accaduto. Uomini e donne, Maria De Filippi incredula per la reazione di Barbara. Tutto è iniziato allorché Maria De Filippi l'ha fatta accomodare al centro dello studio, poiché alla sua corte è giunto un cavaliere pronto a conoscerla. Prima di far entrare l'uomo arrivato per fare la sua conoscenza, la padrona di casa, con fare provocatorio le ha chiesto, vuoi uscire con Yuri? La dama ha preso la parola ed ha spiegato le ragioni per le quali non si è sentita pienamente apprezzata dal cavaliere. Yuri lei ha dunque risposto e, a questo punto, Barbara ha sbottato dicendo, no, no, no. Stai calmo eh, ti si ingrossa la vena, devo sedermi? Parla così a tua nonna. La dama ha svelato, mi aveva lasciato il numero e l'ho ringraziato. Mi ha risposto dopo 5 minuti e poi non mi ha più richiamato. Io dovevo richiamarti, sei tu che mi ha dato il numero, io sono una donna di una volta. Yuri con fare deciso le ha detto. Se tu sei una donna di una volta allora devi imparare a comportarti, ok? Così tu non mi parli. Barbara esasperata ha dunque abbandonato lo studio. Io esco perché non si può parlare con questo uomo. Sei arrogante. Il cavaliere le ha detto di accomodarsi e, lei nervosa gli ha risposto. Non prendo ordini da nessuno Maria, siediti? Ma chi sei tu per parlarmi in questa maniera? Arrogante e prepotente. Tutto si è svolto dinnanzi agli occhi increduli della conduttrice, che ha assistito alla scena con stupore, per questo sui social, in molti hanno creato dei meme divertentissimi per enfatizzare con ironia le reazioni dell'amatissima dama e della timoniera.